Ciao a tutti, sono Sara Felberbaum. Come hai potuto farmi questo? Ho creato questa capsule per una donna dinamica. Una donna libera. Una donna moderna. Scusate. Pronto? Sì, ho capito, sto arrivando. Grazie. Una donna bella, forte, meravigliosa. L'amicizia è stata fondamentale nella mia vita. Ho le stesse due amiche dalla terza elementare. Mia sorella è una delle mie migliori amiche e ho anche la fortuna di lavorare con alcune delle mie migliori amiche. Senza di loro non sarei qui. Ho usato il rosa, il verde menta, il celeste e il bianco. Voglio dedicare questa collezione a tutte le donne che amo, alle donne che mi ispirano quotidianamente, e quindi alle mie amiche, alle... America! Gli abiti della mia capsule collection mi fanno sentire. Grazie.